Quello che posso dire è che mancano da 30 anni dall'Australia e quest'anno è ancora più importante delle altre volte che sono venuto lì in Australia, Sydney, Melbourne, Aperta e quant'altro. Sono molto più felice perché vado in un teatro dove ho segnato da anni, dalla prima volta che sono stati in Australia 50 anni fa quasi, sì era il 74 75 e vedi questa questa struttura e mi informai, io ero ignorante in materia ovviamente, e mi distrae l'Opera House. È un teatro meraviglioso e io mi sono detto ma un giorno mi piacerebbe molto cantarci, dagli oggi domani si è realizzato. Io in aprile sono lì in questo bellissimo teatro e spero che voi veniate in tanti e così ci riabbracciamo come 30 anni fa. Auguri, buona vita.